Ok Steady, The Original Dr. Boost è qui per invitarvi alla seconda edizione del primo, unico e originale Sardinia Reggae Festival, Banari, 30-31 luglio, 1 e 2 agosto. Mi raccomando, non potete mancare, tanta bella gente, divertimento, musica e cultura, ci vediamo lì allora, sì, e questa è la mia dedica speciale, yeah! A me mi piace e me da musica sardisola, una nina nanna duro duro, a festa da scampana, prodotto made in domo, pieni da esso coro, arziassi a mano steggio dai castelli e dai nu coro, colbi adatta rimanna anche Aristanis, onzi pittà unita proprio giare forza Paris, con sa barriccata di San Reggae Music Vibe, e su Sardinia Reggae Festival, Banari Style, Warrior Boom, stile Cannon Hour Room, e su Taiso Sole Ruz, che è il suo da bander de mon, sponza morendo, non si cosa custa pure sa chistione, di un'attenza su fusile, di un'oghezzo sa regione, gommo attento, ho la custa oche, però il testo come in te suento, uno canto libero, uno passamento, e tanto aumenta di illusio, non mette busti a neddo, no chiedimus in banari, dai steddo ai steddo, boom!